Benvenuti a tutti in questo nuovo video cari amici di VicTech.net Oggi andiamo a fare l'unboxing degli occhiali 3D virtuali per la realtà virtuale della Arker Iniziamo velocemente con l'unboxing Dopo ovviamente a questo video unboxing seguirà una recensione completa però scritta Apriamo quindi la confezione e troviamo questo qua che è il telecomando che apriamo tra un istante E qua troviamo gli occhiali Appoggiamo qua, prendiamo tra un attimo Qua troviamo inoltre il manuale delle istruzioni che spiega un po' come funzionano Un po' per vedere altri modelli della serie Archer E qua troviamo anche la pezza per pulire gli occhiali Perfetto, scatola, non troviamo nient'altro Iniziamo col telecomando che è davvero una cosa utile perché ci consente di cambiare applicazione Senza dover tutte le volte smontare e rimontare gli occhiali Si collega via bluetooth al vostro device Eccolo qua Semplicissimo, basta accenderlo Anzi, vi faccio vedere prima Servono due batterie mini stilo Le AAA Vedete io le ho già inserite Però originariamente non ci sono Quindi Teniamo premuto per accenderlo Dobbiamo spostare questo cursore Vedete In basso Su K E la luce lampeggerà Quindi andiamo a prendere il nostro telefono Lo colleghiamo per via bluetooth Vedrete che troverete una tastiera Viene rilevata come tastiera E fate l'accoppiamento Ed è subito fatto Vedrete che compare una freccettina sul vostro device La quale verrà comandata con questo analogico qua E con start Cliccherete Diciamo Simulerete il tocco Mentre con un select Servirà come tasto indietro Perfetto Mettiamo qui da parte E procediamo con Il prodotto vero e proprio Ovvero gli occhiali Eccoli qua Vengono dati con La Un po' di plastica sopra Vedete qua nelle parti lucide Quelle di facile Rigazione Rigatura Come si dice insomma E Come potete vedere Il telefono andrà inserito qua dentro Ecco qua Vedete qua c'è una spugnetta Il telefono lo mettete qua dentro Dopo quando avvierete l'applicazione Vi verrà la linea nera in mezzo E dovrà combaciare a questa parte Dopo ovviamente chiudete Stando attenti a non A non spostare il telefono E qua dentro ci sono appunto Le due lenti Che vi consentiranno di Di Appunto Immergervi nella realtà Virtuale Qua troviamo Sia di qua Sia di qua Perché ovviamente non tutti i telefoni Sono uguali Troviamo lo spacco per inserire Il jack delle cuffie Perché chiaramente con auricolari È tutto molto più realistico Qua troviamo L'elastico Regolabile In lunghezza Per adattarlo E metterci sulla testa Devo dire che è davvero Comodo Anche questa spugnetta All'inizio sembrava un po' Scomoda Ma devo dire che Dopo un po' che ci si fa l'abitudine Diventa davvero molto comoda Prima impressione Si può dire Intanto vi mostro velocemente La pezzolina Vediamo se riesco ad aprirla Prima impressione Posso dire che È davvero molto carina Nonostante io l'abbia usata Col mio Huawei P8 Che ha una risoluzione Tra virgolette Solo full HD Per questi Perché di solito Sono consigliate Risoluzioni quad HD 2K Quale lì E Devo dire che Nonostante sia stata Una risoluzione full HD Era davvero Realistica la cosa Unico piccolo difetto Di questo modello Che ricordo di essere La prima versione È che non ha La regolazione del fuoco Della profondità di fuoco È un po' come dire Un telefono Senza autofocus Nel senso Voi prendete un telefono Senza autofocus Sia che lo mettete Lontano dal soggetto Sia che lo mettete Vicino Il fuoco che avete È quello Non potete regolarlo Per rimetterlo a fuoco E qua è lo stesso discorso Voi mettete qua il telefono E quello che vedete È quello Non si può regolare Se vedete un pochino Suocato Purtroppo dovrete Tenerlo così Per fortuna Io Con la mia vista Diciamo Non ho avuto Nessunissimo problema Di sorte E È sembrato tutto Molto realistico E confortevole Non mi resta quindi Che ringraziare La Archer Sinceramente Non so bene Come si pronunci Per averci fornito Questo Visore 3D E darvi appuntamento Alla recensione completa Su www.victech.net Un saluto a tutti Da Davide Alla recensione completa